Ciao ragazze, oggi un altro video tag ed è il video tag My Perfect Palette che ho visto su svariati canali qui su Youtube quest'oggi sono in vena di tag, ne ho girato un altro che è di una ragazza ed è molto molto carino che si chiama Il Natale secondo me quindi non so quale vedrete per primo comunque iniziamo subito con il video tag My Perfect Palette e inizio con la prima domanda che è la palette con il miglior packaging e in questo caso ho fatto un po' la cattiva ma ve ne mostro tre allora inizio subito con quella più economica ed è questa qui di Catrice il packaging è in cartone, come potete vedere è incorniciata tipo a forma di cuore con questa fantasia da mascata al centro troviamo scritto Catrice Arts Collection e si apre con questo modo e si chiude tipo calamita e l'unica pecca come potete vedere è che non ha lo specchio però è davvero molto molto graziosa all'interno porta di nuovo questo motivo da mascato e poi troviamo gli ombretti e una cipra illuminante e un blush mi piace perché mi ricorda molto le palette di Too Faced quelle lì Smooky Eye, Natural Eye, Romantic Eye quelle lì piccoline insomma fatte in questo modo e anche gli ombretti e il blush e la cipra illuminante sono disposte allo stesso modo di quella lì di Too Faced mi piace molto, questa qui porta anche un pennellino e un casual nero non so se in quelle di Too Faced c'è o meno insomma si chiude con la chiusura a calamita dietro porta insomma tutta la bella spiegazione per ricreare i vari look in inglese però è in inglese e in tedesco devo dire la verità quindi si capisce niente questa è la palettina ed è la più economica tra quelle che vi mostro poi di fascia medio, prezzo medio diciamo è questa qui di The Balm che non tutte le youtuber italiane vedo che hanno molte hanno per esempio della The Balm la Nude The Tude quell'altra lì piccolina non mi ricordo come si chiama con il nome di quell'uomo Mark non mi ricordo comunque questa ve la stra consiglio perché davvero è carinissima a parte il packaging che parla da sé insomma scritto insomma Rockstar Palette Bon Jovi dietro porta tutti gli ombretti disegnati l'illuminante, il blush e i due gloss vi faccio vedere come è fatta, come è strutturata sempre il packaging in cartone si apre con la calamita porta questo specchio a forma di cuore ragazze fantastico questi sono gli ombretti tutti con il loro nome e al lato sta scritto Heavy Metal cioè davvero molto simpatica come cosa porta poi questo tipo con le fiamme l'illuminante, il blush poi si apre ancora una volta e vi escono i due glossini che vi devo dire la verità ho utilizzato poco e sono diciamo i due prodotti inutili di questa palette potevano aggiungere altri due ombretti o altri due prodotti viso tipo una terra per fare il contouring ma non questi due prodotti qui perché sono inutili e poi vabbè c'è la scrittina qui I love rock and roll e poi ci sono i vari disegnini i vari accoppiamenti per ricreare un look completo con questa palette davvero stupenda io l'amo e poi per finire che è la più cara è questa qui di Too Faced già ve l'ho mostrata ed è la Prettirebel il packaging è tutto è sempre di cartone con chiusura a calamita è tutto laminato in oro porta queste stringhette con la scritta Too Faced d'oro l'ha Prettirebel è scritto rosa con il cuoricino si apre lo specchio ha tipo incorniciato da borchette però fatte sul cartone non sono in rilievo questa è insomma la palette ed è è fantastica già ve l'avevo mostrata come potete vedere è davvero molto molto bella fantastica e adoro insomma il packaging in particolare di queste palette continuiamo allora quella con gli ombretti più pigmentati devo dire che tutte le mie palette hanno ombretti pigmentati sia quelle più economiche che magari possono avere degli ombretti un po' più polverosi però per il resto sono tutte abbastanza pigmentate tra tutte se devo scegliere preferisco molto questi ombretti qui della De Balmo perché davvero solo se li sfioro hanno una scrivenza pazzesca questo è il blu e un chiaro per dirvi vedete e un bianco cioè hanno una ma anche per quanto riguarda cioè anche l'illuminante che è il mio preferito guardate qua è qualcosa di spettacolare questa palette insomma l'adoro 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 davvero è molto molto scrivente anche quelli la più chiari vedete l'illuminante tra l'altro il mio illuminante preferito mi pulisco che se no insozzo tutto comunque la più scrivente se proprio devo scegliere è questa qui di De Balmo però per il resto tutte le mie palette sono molto scriventi poi secondo che è andata via la pagina ogni tanto questo telefono fa parte con i numeri insomma la terza la più versatile allora sicuramente vi faccio vedere la Mua che sarebbe praticamente questa qui è l'undressed di Mua ha un costo di 5 serline ed è il dupe esatto della Naked perché all'interno porta sia ombretti matt che potete utilizzare per ricreare il look d'azzorno che ombretti shimmer e statinati per ricreare look da sera o anche l'anne che due che ho sono insomma palette molto molto versatili però vi ripeto questa qui marrone scuro matte non ce l'ha più che altro un marroncino quindi preferisco questa qui di questa qui di Mua oppure anche questa qui di Too Faced perché all'interno porta vi faccio vedere un colore insomma matte chiaro e uno marrone scuro per la piega o anche un'altra palette che adoro è la Africa Collection di Paula P che è fantastica ha una pigmentazione assurda come palette il packaging io avevo quella lì con il packaging vecchio quindi ho utilizzato queste due palettine qui di Sephora che prima venivano vendute a 50 centesimi che mi ha inviato la mia amica Mara che ringrazia e ho messo all'interno la palette di Paula P ho anche la cialdina quella lì Waka Waka che adesso non è presente nella nuova palette però non vi siete persi nulla perché davvero la utilizzo pochissimo e io amo questa palette perché davvero posso ricreare con tutti questi colori vari tipi di look sia per il giorno che per la sera e poi la scrivenza è qualcosa di assurdo Fata Morgana guardate qua guardate è qualcosa di spettacolare Savannah spettacolare cioè io non ho parole di questa palette di Paula P tra l'altro vi devo segnalare che sul sito di Paula P hanno fatto gli sconti fino a un tot di tempo non mi ricordo di preciso quanto tempo avete a disposizione ma sia l'Africa Collection che l'India Collection stanno a 31,90 anziché 39,90 quindi hanno fatto il 20% di sconto come il lancio della India Collection che io l'ho presa per con il 20% di sconto quindi una cosa molto molto buona comunque se andate sul sito di sul facebook di Paula P insomma avete tutte le varie informazioni vi lascio su nell'info box magari il mio video dove vi parlo dell'India Collection che sotto ho messo tutti i link del sito di Paula P e della pagina facebook se volete chiedere informazioni poi quattro la più adatta per viaggiare la più adatta per viaggiare in questo punto vi dico la Naked 2 e la palette di Paula P India Collection ma anche quell'Africa Collection perché le palettine queste qui di Sephora hanno un packaging bello compatto e resistente questa qui della Naked 2 come ben sapete il packaging è in metallo quindi a prova di urto ha un grosso specchio quindi fantastico infatti quando sono andata al Cosmoprof l'anno scorso mi sono portata lei e con una sola palette ho ricreato sia un look da giorno che un look da sera ovviamente ho utilizzato magari questo marrone qui perlato anziché un matte per la mattina però voglio dire cioè per due giorni che dovevo stare lì ho portato questa e poi vi consiglio anche queste qui di Paula P perché adesso l'Africa e l'India vengono vendute con questo packaging che sapete che negli alberghi non si ha non si hanno specchi decenti per truccarsi mentre questa qua questa palette qui contiene proprio uno specchio enorme davvero enorme e ve lo straconsiglio per il viaggio a parte che per la qualità degli ombretti che gli ombretti di Paula P sono fantastici vi ci devo precisare che io non collaboro con Paula P sono semplicemente le mie personali opinioni adoro i loro prodotti quindi non vengo pagata per elogiare perché sembra che vi mostro sempre palette di Paula P l'Africa l'India e questo e quello la promozione sul loro sito io non collaboro con Paula P non mi danno un soldo dico semplicemente quello che penso se vi posso far fare un affare per la qualità degli ombretti ve le consiglio perché sono davvero valide come palettine poi quella che rimpiango di aver comprato ed è questa qui che ho preso al Cosmo di due anni fa ed è una palettina di Makeup Forever la rimpiango di aver comprato perché non la utilizzo quasi mai anche questa ha il packaging in cartone tipo tutta colorata molto molto hippie come tipo ed faceva parte di un'edizione limitata alla Bohème il rimpiango di averla comprata perché non la utilizzo poco proprio perché essendo ombretti cotti hanno bisogno di una base o un primer ma soprattutto di bagnare gli ombretti ma anche di una primer di una base cremosa cioè colorata che riprende i vari tipi di ombretti per dare proprio il massimo questa palette ha bisogno di questo un primer base cremosa dello stesso colore dei vari ombretti e bagnare tutti i vari ombretti proprio per dare il meglio di sé ed è per questo insomma che la rimpiango di aver comprato perché devo fare tutta sta roba per realizzare un trucco con questa palette per carità i colori sono molto belli però perché va di fretta e non si ha molto tempo non è adatta insomma ed è un peccato perché l'ho pagata 25 euro a saperlo sarei presa qualche altra cosa insomma poi quella che ha i colori con i migliori nomi allora devo dire che sono indecisa comunque sicuramente queste due qua ed è la de balm per esempio tiene gli ombretti con scritto ad agio allegro moderato presto l'illuminante si chiama solid gold i due gloss si chiamano milly e vanilli poi c'è lid zeppelin alice cooper comunque sono alice cooper sono davvero troppo troppo carini poi balm jovi non lo so mi piace molto ma anche l'africa l'india di paola p tiene bellissimi nomi tipo nirvana dharma kamasutra bollywood ganze marajà devil kajal molto molto carina poi la cosa che mi piace delle collezioni di pala p che tutti gli ombretti corrispondono sia al nome dell'ombretto stesso che della collezione in questo caso collezione india collection e africa collection mi piace molto sta cosa poi continuiamo il mio cellulare che va in stand by anche per un secondo quella che utilizzi di meno è sempre questa qui vi ripeto di make up forever miglior rapporto qualità prezzo in questo caso ve ne faccio vedere due sono una di mua che ha il costo di 4 sterline quindi 5 euro e ve la straconsiglio perché ogni loro palette ha 12 ombretti sono un po' polvorosetti però sono davvero molto molto pigmentati questa qui è l'andresse di mua che sicuramente tutti voi avete comprato perché è il dupe esatto della naked che è molto molto pigmentata e che non ci arrivo perché ho le unghie però vi assicuro è molto molto pigmentata e poi vi faccio vedere mi pulisco quelle lì di slick le seconde ovvero queste di slick hanno un prezzo di 9 euro e 90 le potete trovare sia da sephora che sul sito di slick in questo caso vi faccio vedere questa qui che è una limited edition della slick è la sparkle 2 che è uscita l'anno scorso per le feste di natale all'interno lo sapevo porta questo fogliettino con i nomi degli ombretti porta un pennellino e questa è la palette sono tutti molto molto pigmentati appena sfiorati vedete sono davvero molto molto pigmentati gli ombretti di queste palette qui sono leggermente meno polverosi di quelli di Mua e davvero questa in particolare è una tra le palette che io adoro proprio allo stato buro mi piace moltissimo della slick ho anche altre palettine ho lo naturel che è molto bella per chi ama i look naturali c'ha varie tipologie di marroni sia colori matte che shimmer poi c'è la storm questa qui c'è un'altra sempre in edizione limitata di slick comunque mi ci trovo davvero bene con queste qui di slick non ce le ho tutte perché io ovviamente compro solo quelle lì che mi piacciono non è che le compro per averle tutte e poi non utilizzarle tutte quelle che ho è perché insomma mi piacevano è una perché me l'hanno regalata per il compleanno ma è davvero fantastica e sono contenta insomma del regalo perché i colori sono troppo troppo belli poi l'ultima domanda che è la 10 ma è più senza in una palette come vi dicevo prima in una palette è importante un color burro su tutta la palpebra mobile da poter sfruttare insomma sia per un trucco da giorno che da sera un marrone da sfumare all'interno della piega e un nero per intensificare lo sguardo matt tutti e tre matt ovviamente questi colori secondo me sono necessari in una palette mi sono dimenticata sicuramente quella domanda dell'isola deserta infatti quella più usata amata che porteresti su un'isola deserta ovviamente io se sto su un'isola deserta non mi vado a portare palette ma sicuramente mi vado a portare qualcosa da mangiare non vado a vedere queste cose comunque cosa porterei sicuramente l'Africa perché vi ripeto è molto molto versatile mi piace ha tutte tonalità matto e sono gli ombretti sono adattissimi da sfruttare sia di giorno che di sera e niente ragazzi vi mando un bacione spero che questo video tag vi piace anche perché ho visto che è molto apprezzato sul tubo anche per conoscere nuove palette che magari non avevate ancora visto e niente ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao